Bentornati sul nostro canale, oggi ci dedichiamo a un lavoro un po' particolare, diciamo non direttamente produttivo come al solito, non so, nel vigneto, nei kiwi o nell'orto o magari con gli olivi, ma ci dedichiamo alle nostre rose del nostro giardino. Ecco, in particolare nelle nostre rose oggi vorremmo fare della potatura, perché non abbiamo neanche potate, ma soprattutto vorremmo andare a fare delle propagazioni per talea perché abbiamo voglia di incrementare il nostro numero di rose e quindi vorremmo sviluppare questa tecnica, farvi vedere un po' noi come facciamo e quindi avere nelle prossime estati delle fioriture più abbondanti in quanto avremo, speriamo, maggior numero di rose. La tecnica di propagazione per talea è una tecnica molto semplice, elementare, non servono neanche tante strumentazioni e diciamo è semplice soprattutto per andare a propagare alcune piante molto predisposte a questa tecnica, per esempio o le viti o anche appunto le rose. Le rose sono sicuramente una tra le piante che danno maggiori soddisfazioni e soprattutto maggiori percentuali di risultato positivo dopo averle propagate appunto per talea. Ecco, la propagazione per talea praticamente consiste nell'andare a selezionare un germoglio abbastanza giovane in genere del primo anno e andare a fare una sezione di questo e poi andarlo a immetterlo in un vaso dove si è riposto un po' di terriccio, di torba e sabbia in genere e quindi metterlo a dimora in questo vaso, lasciarlo inumidire e quindi andarlo a innaffiare periodicamente in modo tale da non seccare troppo la terra e in primavera si dovrebbero sviluppare appunto le nuovi germogli. Per avere probabilità di un buon successo nella propagazione per talea, diciamo la rosa, bisogna individuare il periodo corretto appunto per la rosa, si parla in genere o da post fioritura, quindi periodo estivo, oppure come in questo periodo un periodo autunnale, invernale, volendo, importante prima del germogliamento primaverile. In questo momento secondo noi è anche abbastanza semplice da propagare perché poi il mantenimento in vaso fino a questa primavera non richiede particolari attenzioni. Certo bisogna tenerla d'occhio per quanto riguarda l'umidità, ma chiaramente nel periodo autunnale, invernale, non necessita di particolari bagnature. Mentre se si effettua questa tecnica di propagazione per talea, nel periodo post fioritura, per cui per la rosa coincide, dopo in base alla tipologia di rosa, però in genere si parla del periodo estivo dove c'è un tanto caldo, chiaramente una volta propagata la talea emessa di mora bisogna tenerla inumidita parecchio, bisogna stare attenti allo stress idrico, per cui sicuramente ha bisogno di qualche attenzione in più, però nulla di impossibile. Per andare a fare la propagazione, prima cosa bisogna andare a individuare il germoglio, il rametto adatto per fare appunto la futura talea. Per fare questo bisogna appunto individuare il germoglio di un anno, quindi il germoglio più giovane. La cosa più semplice è quella di andare a vedere dove ha germogliato, dove ha fatto, scusate, la fioritura, e si parte appunto dal fiore che c'è stato e si va a ritroso. Si va a ritroso lungo il ramo, lungo il germoglio, fino a trovare il punto di inserzione con il legno più vecchio. In questo caso, appena dopo la biforcazione, è il punto interessante per noi da dove partire, andare a selezionare il ramo. Quindi questo germoglio da qua in poi è sicuramente un germoglio di un anno, che quindi è quello che interessa a noi per fare questa propagazione. Ecco allora, procediamo con il taglio del germoglio che abbiamo selezionato per fare la talea. In realtà abbiamo pensato di tagliarne uno abbastanza lungo, in modo tale poi di avere più talee, perché andiamo a selezionarlo in più parti, lo stesso germoglio, e proviamo a piantarlo nello stesso vaso, più talee. Per cui andiamo a fare un taglio, più o meno a questa altezza, stanno attenti a non pungersi. Ecco che abbiamo il nostro ramo, che andiamo adesso a selezionare in più parti, in modo tale poi da interrarlo e andare a controllare un po' le gemme che ci sono, e andremo a contare le gemme in modo tale da interrare in una parte e lasciarne una parte fuori all'aria. Allora adesso che abbiamo selezionato il nostro germoglio, andiamo a tagliarlo andando a considerare circa 5 o 6 gemme ogni futura talea, in modo tale che una parte andrà a fare le radici, una parte andrà a fare la parte aerea. Andiamo più o meno a guardare gli internodi che corrispondono alle gemme, purtroppo qua vedete qualche danno da grandine c'è stato anche nelle rose, ma è forse abbondante farei una cosa così, una, guardiamo un po' gli internodi, due, e più o meno potremmo andare anche qua così. Queste saranno le nostre tre future talee. Adesso abbiamo selezionato le tre nuove talee, quindi il materiale ce l'abbiamo, abbiamo un vaso non tanto grande per cui ce ne stanno al massimo tre in questo caso, e la restante parte, che è anche un po' tanto fina, la preferiamo scartare in questo caso, e quindi usiamo le tre che abbiamo selezionato. Allora noi per fare le talee, come avete visto anche in un video che abbiamo fatto nella fine parte dell'ultimo inverno, prima della primavera, noi lavoriamo in questo modo, abbiamo il vaso terriccio misto tra una terra un po' pesante e della sabbia, e poi per le rose facciamo in genere un letto con della ghiaia, con dei sassi abbastanza piccolini, in modo tale da favorire il drenaggio. Il vaso che usiamo chiaramente sotto ha dei fori, in modo tale da aiutare il drenaggio dell'acqua, e abbiamo l'ormone radicante in modo tale da favorire e stimolare la fuoriscita delle radichette, in modo tale da agevolare il radicamento delle nuove talee. Ecco allora procediamo con, diciamo, prima la ghiaia, in modo tale da creare quel letto di drenaggio che dicevamo. Facciamo una buona, un buon letto, diciamo, così. E poi proseguiamo con appunto l'aggiunta della terra. Diciamo la rosa che abbiamo intenzione di replicare, è una rosa particolare, che fa un fiore molto brillante, è un rosa acceso, un rosa fucsia, diciamo, e appunto ci piaceva replicarla proprio per il suo colore molto originale. Ora non ci resta che utilizzare il nostro ormone radicante, questo è in polvere, per cui in genere io preferisco metterla polvere, un po' di polvere sul tappo, forse non mi sa anche un po' tanta, ma va bene. Poi intingiamo il ramo che abbiamo selezionato, prima l'abbiamo già inumidito, in modo tale che l'ormone radicante si penetri meglio, e quindi andiamo a di fatto sporcarlo in questo modo. Ecco qua. E ora è pronto per essere inserito il nostro ramo. Generalmente io faccio sempre così, prendo un altro ramo, seleziono il punto in cui va poi immesso la talea, e creo un buco leggermente più grande. Questo è importante perché altrimenti, se andassimo a creare il buco direttamente con la talea, l'ormone radicante si perderebbe lungo tutto il tragitto della terra. In questo modo invece abbiamo la garanzia che rimane a contatto appunto con la talea. Ed è importante ovviamente. Poi andremo a tamponare vicino, in modo tale da aggiustare un po' di terriccio attorno alla pianta. Ecco allora, ci rimane solo l'ultima, la terza. Ecco, una cosa che non ho detto, è importante che non sbagliare la direzione delle gemme. Cioè la parte che sta a contatto con la terra, e quindi dopo diventerà radici, dovrà essere quella porzione di ramo basale, quindi la parte più in basso. Mentre la porzione aerea sarà la parte più apicale del ramo. Molto importante perché altrimenti le gemme non sono orientate nel modo corretto. Facciamo lo spazio anche per la terza e procediamo nella stessa maniera. Ecco, l'importante è che nella terra siano inserite almeno due o tre gemme, in modo tale da creare un buon apparato radicale. In questo caso è abbastanza alta la parte aerea, per cui credo che sia meglio tagliarla a questo livello, in modo tale da non andare ad appesantire troppo poi la pianta. Andremo adesso a bagnarla, ovviamente, a tenerla umida. Monitoreremo lo stato di umidità, il grado di umidità della terra, in modo tale da tenerla sempre umida, ma non eccessivamente bagnata. È importante perché altrimenti andiamo a creare marciume a livello radicale e non partirà mai. È importante ovviamente non farla seccare, quindi avere una terra abbastanza sciolta, proprio perché non si irrigidisca, non si compatti troppo e non crea una sorta di cemento e appunto le... quando va a secarsi, appunto le... le radici non riescono ad esprimersi. Quindi è molto importante selezionare la terra corretta e andare a dare il giusto grado di umidità. Diciamo che il lavoro adesso di selezione di messa a dimora è di fatto finito. Inizia la parte un po' delicata, cioè quella delle osservazioni. Chiaramente è importante, come dicevamo, l'umidità, poi è importante nella primo periodo primaverile osservare come si sta sviluppando la parte aerea. Ovviamente ha se parte, perché è la cosa principale. Se parte, bisogna vedere come parte, cioè ci sono troppi germogli, si carica troppo la parte aerea, allora in quel caso, per esperienza nostra, è meglio andare a accorciare ulteriormente in modo tale da irrobustire la parte aerea e quindi non stressare troppo l'apparato radicale. Viceversa, insomma, se c'è un buon equilibrio è meglio non toccarla in modo tale che si sviluppi in modo coerente, in modo corretto con il bilanciamento appunto parte aerea e parte radicale. Quindi adesso non ci resta che andare a inumidire tutto il vaso e andiamo a riporla in un ambiente esterno. Non la teniamo chiaramente in un porticato, in garage o in casa. La lasciamo fuori, però magari un po' riparata vicino alla casa, vicino a un angolo della casa, in modo tale da non esporla al gelo. Perché è importante appunto farli passare un inverno abbastanza equilibrato e abbastanza comoda sotto l'occhio perché chiaramente dovremo monitorarla periodicamente appunto per non seccare troppo il terreno. In inverno diciamo non c'è questo rischio enorme, però è giusto tenerla sotto controllo appunto per non andare a vanificare tutti gli sforzi fatti. E poi ecco, nella parte del primavera si va appunto a valutare poi l'eventuale germogliamento. Ecco, questo è un modo abbastanza efficace che secondo noi funziona molto sia con le tale di rosa sia con le tale di vite che sono due tipologie di piante che per questo si prestano assolutamente bene. È un buon metodo per andare a replicare appunto queste tipologie di piante che come le rose sono adatte anche per un regalo o anche da piantare nel proprio giardino ed è carino anche perché secondo noi è bello il rapporto che si crea con queste piante perché le si sente un po' più proprie perché si è creato una nuova pianta non dico partire da zero perché appunto non è che si parte da zero però si parte con del materiale selezionato e si prende cura diciamo dall'inizio alla fine quindi il rapporto poi di cura sicuramente è molto più attento e si ha appunto la soddisfazione di vedere un qualcosa che parte da poco o niente che è un rametto a una bella rosa vigorosa e appunto è una grande soddisfazione per noi. Ecco, ormai le serate autunnali sono molto veloci ad arrivare quindi ormai sta facendo buio noi abbiamo concluso il nostro lavoro il nostro filmato ci ha fatto piacere condividere con voi questa esperienza questa tecnica e adesso andremo appunto a bagnare questo vaso e poi riporlo al riparo appunto come dicevamo e ci fa piacere che siete stati con noi speriamo che i contenuti siano stati il vostro gradimento se avete dei commenti se avete anche delle vostre esperienze di consigli da darci ovviamente ci fa super super piacere non è chiaramente un metodo particolarmente complicato da sviluppare però sicuramente è un metodo molto carino che secondo noi appunto vale la pena da provare insomma non costa nulla per cui è anche carino provare diverse sfumature all'interno di questa tecnica e vedere quale che meglio si confano le nostre possibilità per cui ci vediamo il prossimo venerdì con un nuovo video con un nuovo appunto appuntamento nel nostro canale nel nostro canale per cui ci vediamo che vediamo per